Vorrei invitarli Giuseppe ad avvicinarsi, per prendersi un applauso per voi che ha fatto. Grazie per averci portato. Io l'ho scelto questo lavoro, l'ho scelto perché, l'abbiamo scelto, perché pensando all'anima e conoscendo il lavoro dei nostri artisti, cantanti, l'anima del campo indice, ho visto questo quadro, ovviamente questo lavoro e quel sasso per me rappresentava l'anima, qui posto nel centro generazionale, secondo me aveva molto senso all'interno di questo contesto e poi conosco la tua grandezza e la tua statura e mi piaceva ospitarti nella nostra rassegna. Grazie ancora. Grazie.